Tutti i titan nemici, arresta l'ultimo inizio Sopra! Come andiamo? Sopra! Sopra! Do una mano a quello che sa dalle scalinate Sì, anch'io sto venendo là, ma oggi abbiamo un sozzone Dai che gli fanno male Vai tu, vai tu Così Grande Gli abbiamo rotto il culo Senta il pilota che è incazzatissimo eh Ahahahah Il round è nostro Questo è una battaglia di sopravvivenza, titan Concentrati, hai un solo titan e non potrai chiedermi altro Sopra! Io sto con un cubo da sotto Guarda questo deficiente che scende te Sopra! 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 Andare su quella scalinata è un figlio mio Ci vuole coraggio Sopra! 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 Attenti dalla scalinata Lo sapete che vi attaccano la corrente e vi distrutto unità Sopra! 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 Occhio, c'è un pilota che c'è più a terra eh Ragazzo! Vabbè comunque e cos'è quasi un pazzo oh oh intanto sto volando sto puntando vieni via ma perchè sei rimasto via vieni via no che ti frega sta là mezzo là sta vabbè dai andammo via 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 qua dai il pirota da sopra è morto cazzottone che fottato eh paura eh oh siamo 3 contro 1 occhia pilota c'è il pirota sopra pilota sopra va bene l'hai preso? no ce l'hai tu ok a posto dai non mi rompe il culo che stai da che sta a parlare con un nostro amico là tu faccio il pirota è arrivato il cattone è là eh l'ho invitato prima ma è pieno no il round è nostro sul suo nome e sul suo onore abbiamo iniziato alla grande e continua così e sul suo onore ritorno quello là va di sotto ma perchè lui l'hanno ascoliato là dritto verso loro perchè è un nabbo? eh no è quello è occhio eh però occhio che c'è la dritta minacciati via stiamo continuando danni critici suggerisco delle manovre in registro oh bottele buvo ti sono dietro va attenti si occhio che la città è buono eh ci aspettano davvero occhio che ci aspettano buvo sai troppo avanti si 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 io glielo faccio vedere io troppo avanti ma sto bapèo glielo faccio vedere io troppo avanti non scappi ti è qua ti ho detto maledetto tu vai tu ti ho visto scusate chi è chi è chi è chi è chi è te lo faccio fuori il titan con la l oh oh no no è riempressionante è mio ma che mancano ancora titan da distrugge? oh uno loro andamela a cercare titan resisti lassù oh rimani lì non fa cazzate eh che qualcuno ha visto il titan no stai protetto eh no non c'è troppo vede da qua si ce l'ha laggiù laggiù uno dei nostri ok bravissimo abbiamo visto un round cambiamo posizione e avanti così vorri cambiamo posizione ma ci sono di questi volatili no no non avanziamo oltre qui e rimaniamo qua abbiamo una posizione buona qui e qua giù abbiamo solo due punti da controllare ce li controlliamo tranquilli li aspettiamo dalle scale dalle scale dalle scale dalle scale laterale che? ah dalle scale laterale sinistra non ti preoccupare ritornerà sui passi ritornerà sui passi oh eccolo arriva invece il bagnale si cannoneggia Archer occhio che sta a caricare cannone Archer no 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 perché ti sei buttato da sotto maledetto cazzone no non è così dai non ti fai buttare da sotto cubo vado un po' avanti io come stai messo vai 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 vieni vieni mi lancio mamma mia mamma mia ma ditemi se c'è qualcuno no se c'è qualcuno lì sotto che è sta andando alle scale in fondo oh yes attenti che hanno fatto partire quella famosa scossa elettrica eh il ultimo scatto in posto no 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 vai vai che ha fatto vai che ha fatto no no vai che sono fatti queste due via 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 dal nucleare vai pilota pallo nero Dota, fallo nero, ti prego! L'hai fatto nero? No, ma l'hanno agganciato da mille parti, c'erano due piloti agganciate, ma hanno un po' più il titan, mi dico la verità, mortaccio, ma che c'aveva l'hack quel titan ragazzi, io me lo so, era un ogre ma andava a 2000, fateci un po' caso, un ogre che correva troppo, pure per averci la carta a bar nella velocità, per il nuovo urbano ti sarà molto utile un uomo, ecco, l'ho tirato in cluster, eccolo qua, uno è venuto avanti, sei ritornato però, c'è il gunner dei nostri là da loro che, bravo comunque, se tieni lassù sulla sinistra in alto, sulla sinistra lassù tieni, dove vai, te ne vai? Maledetto, non te ne andate, tieni che arrivano da lì a riuscire, non avanzate però, rimani lassù, no, non avanzate, sennò arrivate tutto come prima, rimani lassù, lassù in alto stai bene, perchè io non li faccio avanzata qui, capito? stai bene, livello pericolato, c'era tipo... stai bene, rimani lassù, sei protetto, rimani lassù passo dalla porta cacchio aspetta, 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 che lo devi svistare cacchio come andiamo? mi sembra molto bene raga cavolo oi 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 che male che brutto le ragazzi nessuno quel cazzo di gobby ha trovato il modo dai rimaniamo indietro si rimaniamo tutti ci abbiamo due solo posti a controllare a meno che non vogliano venita su ma ma di sopra di solito non passano serve uno là su in alto a sinistra come prima quello serve proprio una scarinata guardando il nemico a sinistra in alto come te lo devo dire guardate un po' più a destra un po' più a sinistra se vedete un titan amico guardate guardate è solo che i nostri si no questi che giocano con noi sono dei cazzoni e continuano avanzare senza motivo così no no indietro noi non avanziamo non si parliamo con dolce da quel defigente non si parliamo con dolce da quel defigente non si parliamo di minaccia dall'alto come si fa no no lasciate stai sciogli fammelo delle serie qua a sinistra sono rimasto solo io ingridi bravo tu da una mano qua a sinistra la destra siete in due no no rimanete la in due a destra rimani la rimani la poi io reggo solo che c'è un pinota ecco la cazzo suggerisco di cercare un ritardo occhio al muro per tutelare si non credo dietro cazzo la merda è indietro maledetto eh sto andando avverso che arriva arriva vieni su che prova che prova allarme sistemi vitali basso non avanzate stiamo qui aia bersaglio attaccato dal pilota si do due botte con il oh allarme siamo sotto attacco di tytan dai allarme un altro tytan si sta attaccando tytan alle altre oh tu cosa prendi dai 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 siamo in 92 eh quasi erano tutte e due con' abilità no dai l'ultima la dobbiamo vincere ragazzi è che mi attrazzano 3 a 3 dai capito dai avanziamo rimaniamo qui che ne so fate qualcosa trovate voi il vostro karma dai il bersaglio è attaccato da Titan a terra voli non è che c'è uno che tira di ripreninato vabbè figa non si riempie di minacce stupidino via 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 eccolo là ma quella a me guarda quanto corre non mi fa fericata al coso l'esco ragazzi attenzione c'è sempre quella versione elettrica è lì dai che li stiamo a fare non vi fate le varie energie inutilmente allarme siamo sotto attacco di Takamu rimaniamo qua rimanete indietro occhio al cannone arca c'è via tutti insieme stiamo lì separati guarda qui alla pippa con quella di io che non neanche io mi ho detto qua stupaccio qua che ce l'ho guarda qui a livello pericolo alto vedi ce n'è uno camperato in fondo alla mappa laggiù che sta lì a aspettare che si defaccia i punti quindi non ce cascavo stanno critici suggerisco delle manovre evasibili non vi affacciate proprio fateli avanzare dai che sta alla pietra dai che lo beccamo dai che sta alla pietra è quello che correva verso qua occhio quello c'è quello là in fondo che è un po' di palle famo così allora tu copri me io vado là da quello lì copri me vado là vado da quello via 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 cazzo mi ha preso speravo che non usciava imbecille cubo io sopra c'è un pilota scappa vattene che c'è un pilota sopra via 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 bravi in detretto ce l'hai davanti adesso sul tetto davanti fermi tornate indietro tornate indietro che siete in C 4 contro 2 fra 30 secondi finisce il round rimanete così attenti ai cazzo cubo stai su un cluster via via da lì cubo 10 9 resistete 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 occhio al nucleare nemico occhio se lo fa occhio se fa il nucleare scappate va bene così siamo in maggioranza 4 a 2 10 secondi ok va bene così andate andate bravi bravi bravi